signori scusate i primi posti cortesemente devono restare liberi, grazie poi se magari vi mettete una filazione a filano è ancora meglio per il distanziamento, grazie ora la chiediamo al distanziamento ci siamo insieme i ragazzi che si parla con questa banca o con questa banca? quelli che marcheranno ora